Renzo Pellizzon, Vice Presidente del Comitato di Categoria EBAV degli Alimentaristi. Vice Presidente, un'iniziativa importante che porta l'alimentazione veneta tipica a Bruxelles. L'EBAV ha avuto un ruolo fondamentale. Quali le ragioni per cui il Comitato si è impegnato in questa iniziativa e che ricadute potrebbe avere anche per i dipendenti delle imprese artigiane di questo settore? Sì, diciamo che l'EBAV ha analizzato una serie di progetti che gli artigiani hanno presentato. Questi progetti sono stati tutti quanti accolti, per una parte economica anche importante, ma io penso che questo investimento abbia poi una ricaduta in termini di propaganda e di pubblicità estremamente favorevole per la categoria e soprattutto per i lavoratori che ci lavorano. Nel nostro settore i lavoratori hanno mantenuto una posizione di eccellenza nel settore e riteniamo che appunto gli investimenti che abbiamo fatto aiutano a creare ulteriori elementi di occupazione per la specializzazione che noi stiamo facendo in questa attività. Grazie.